Una scia di raccapriccianti omicidi e il sospetto di una sola firma, è una pista insanguinata che attraversa l'Europa, quella che emerge dall'indagine internazionale in corso su Danilo Restivo. L'uomo è accusato dalla procura di Salerno di aver ucciso Elisa Claps e oggi è in carcere in Inghilterra in attesa di giudizio per l'assassino di Eder Barnett, la sua vicina di casa. Ma chi è Danilo Restivo? Classe 1972, figlio del direttore della Biblioteca Nazionale di Potenza e nipote di un ex ministro di C, all'età di 14 anni viene denunciato per aver legato e seviziato due ragazzini. In città inoltre è famoso per un suo strano vizio, taglia di nascosto ciocche di capelli alle persone, nei luoghi pubblici e soprattutto sugli autobus. Dopo la scomparsa di Elisa il 12 settembre 1993, la famiglia lo fa allontanare da Potenza, prima a Rimini e poi a Torino, ma in tutti questi posti le persone lo ricordano come un individuo inquietante. Nel 1998, sempre a proposito del caso Claps, viene condannato e arrestato per falsa testimonianza. La famiglia decide allora di mandarlo all'estero, a Burnmouth, in Inghilterra, dove Danilo per un periodo conduce una vita tranquilla, nell'ombra, dimenticato da tutti e si sposa. Poi il 12 luglio 2002, l'omicidio di una studentessa coreana di 26 anni, accoltellata in un parco e, quattro mesi dopo, a due soli isolati di distanza da casa sua, l'omicidio della Sarta Heather Barnett. Simili le modalità dei due delitti, nelle mani della vittima due ciocche di capelli tagliati. E così di nuovo si torna a parlare di Danilo restivo e di conseguenza del destino incerto di Elisa Claps. Nel marzo 2010, alcuni operai trovano il corpo mummificato di Elisa nel sottotetto della chiesa della Santissima Trinità di Potenza, proprio dove lei e il restivo si erano visti quella lontana domenica del 93. Ora, la possibile svolta, il DNA dell'uomo, sarebbe stato trovato sulla maglia che la ragazza indossava quel maledetto giorno.